in questo numero di qui europa magazine al via la tassa minima del 15 per cento per le multinazionali via libera agli aiuti di stato per lo stoccaggio dell'energia commercio elettronico nuove norme contro le frodi sull'iva è entrata in vigore nell'unione europea la global minimum tax viene introdotta una liquota minima di imposizione effettiva del 15 per cento per le società multinazionali attive negli stati membri il nuovo quadro di regole punta a una maggiore equità e stabilità al panorama fiscale nell'unione e a livello mondiale rendendolo nel contempo più moderno e più atto al mondo digitale globalizzato quasi 140 giurisdizioni in tutto il mondo hanno aderito a queste norme ma l'unione europea è stata all'avanguardia nel tradurle in leggi vincolanti riducendo l'incentivo per le imprese a trasferire gli utili verso giurisdizioni a bassa imposizione fiscale il nuovo sistema intende limitare la cosiddetta corsa al ribasso delle aliquote dell'imposta sul reddito delle società con lo scopo di attrarre investimenti le norme si applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala nell'unione con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di euro l'anno si applicheranno a qualsiasi grande gruppo nazionale o internazionale la cui società madre o una controllata sia in uno stato membro la commissione europea ha dato il via libera agli aiuti di stato italiani da 17,7 miliardi di euro a sostegno della costruzione e della gestione di un sistema di stoccaggio centralizzato dell'energia elettrica la misura contribuisce al conseguimento degli obiettivi del green deal europeo consentendo l'integrazione nel sistema elettrico italiano delle fonti energetiche rinnovabili il regime di aiuti messo a punto dall'italia sosterrà la costruzione di impianti di stoccaggio dell'energia elettrica con una capacità congiunta superiore a 9 gigawatt gli aiuti saranno in vigore fino al 31 dicembre 2033 i sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica consentono di immagazzinare l'energia elettrica prodotta in eccesso nei periodi di sovrapproduzione e di utilizzarla nei periodi di scarsità gli aiuti avranno la forma di pagamenti annuali destinati a coprire i costi di investimento e di gestione che saranno versati agli sviluppatori dei sistemi di stoccaggio di energia elettrica una procedura di gara competitiva trasparente e non discriminatoria permetterà di selezionare gli sviluppatori dei sistemi di stoccaggio il primo gennaio sono entrate in vigore le nuove norme sulla trasparenza che aiuteranno gli stati membri dell'UE a reprimere le frodi sull'iva soprattutto nell'ambito del commercio elettronico finora alcuni venditori online non fiscalmente presenti in europa avevano venduto beni e servizi a consumatori dell'unione senza registrarsi ai fini dell'iva nell'UE o dichiarando un numero di vendite inferiore a quelle effettive il nuovo sistema sfrutta il ruolo di banche istituti di moneta elettronica istituti di pagamento e uffici postali che dovranno monitorare i benefici dei pagamenti trasfrontalieri e dal primo aprile trasmettere alle amministrazioni degli stati membri dell'UE informazioni su quelli che ne ricevono più di 25 per trimestre tali informazioni saranno poi centralizzate in una nuova banca dati della commissione europea il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti in cui saranno archiviate aggregate e sottoposte a controlli incrociati con altri dati secondo il commissario per l'economia paolo gentiloni le nuove norme svolgeranno un ruolo cruciale nella lotta contro le frodi dell'iva che ogni anno costano ai governi ue miliardi in perdite di gettito grazie 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 grazie